quando la natura incontra la tecnica ecco che nasce qualcosa di straordinario ispirato alla purezza realizzato con accurata manifattura tutta made in italy dettagli di classe per garantire stile in ogni occasione progettato per ridurre l'impatto sull'ambiente benvenuto inglesina electa element a star in the city il nuovo trio electa collezione element e la combinazione perfetta di tessuti interamente naturali come il lino e il cotone queste caratteristiche unite alla leggerezza del telaio regaleranno sensazioni di estremo berezzere al neonato e massimo dinamismo realizzato con tessuti ideali per la pelle sensibile dei neonati progettato per vivere appieno la città semplice e pratico da gestire il telaio è costruito interamente di alluminio con ruote in schiuma altamente prestanti che unite ad un buon livello di ammortizzazione garantiranno comfort e massima libertà di movimento la chiusura intuitiva ad un'unica mano ed il suo peso leggero permetteranno di poterlo riporre anche negli spazi più piccoli una volta chiuso resta in piedi da solo la carrozzina grande culla è progettata per garantire al neonato un ambiente perfetto ed accogliente per i primi sei mesi di vita l'innovativo materassino welcome pad brevettato da inglesina garantirà al neonato una corretta postura lo stand up in dotazione permetterà di agganciare la culla grande in casa in modo comodo sicuro ed igienico il passeggino è reversibile con schienale e poggiapiedi regolabili completo di coprigambe e materassino traspirante snag pad la cappottina si estende per garantire ombra nelle ore di maggiore luce i tessuti upf 50 più garantiranno protezione e schermatura solare omologato fino ai 22 kg di peso con chiusura compatta sia nel senso di marcia che nel verso contrario possibilità di completare il trio electa con due diversi seggiolini auto cab o darwin a seconda delle esigenze per viaggi sicuri e confortevoli vivi appieno la città con un prodotto costruito interamente con fibre naturali nuovo inglesina element la scelta perfetta per il domani iscriviti al canale segui le nostre pagine social facebook instagram pinterest e resta aggiornato su tutte le ultime novità crocco prima infanzia professionisti al servizio del vostro bambino